Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di ARPA, la Liguria senza nubi come ci mostra il satellite, l'anticiclono in espansione dall'oceano atlantico tende a coinvolgere gran parte dell'Europa occidentale garantendo nei prossimi giorni tempo stabile soleggiato sulla nostra regione tranne sul Levante nel pomeriggio sera di oggi per un'infiltrazione di aria fredda in quota, infatti le previsioni parlano di sereno, poco nuvoloso, con qualche nube a sviluppo diurno sui rilievi che a Levante potrà dar luogo a isolati rovesci o temporali, impossibile sconfinamento sulle coste, venti deboli settentrionali nelle zone interne e sul Savonese, in regime di brezza altrove mare poco mosso, temperature previste in aumento. Domani, venerdì 7 aprile, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la Liguria, venti generalmente deboli o in regime di brezza, mare generalmente poco mosso, temperature, sia le minime che le massime, sono previste stazionarie. È tutto, vi ricordo di seguire gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal a risentirci.